Signori miei, benvenuti e bentornati sull'ombra della guerra Allora, in questa missione qua, cosa abbiamo da fare? Cosa c'è da fare qua, sinceramente? C'è qualcosa da fare qua, sì? Sì? C'è da conquistare? Conquista? Dartsgurun 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 Che è qui Giusto? Più o meno, quasi Non si dice più o meno, quasi Devo dire una cosa Mi sta piacendo moltissimo Questo gioco qua, devo andare di qua Mi sta piacendo moltissimo Siamo, ahimè, giunti quasi alla fine Puntata 14, 15 Non so nemmeno Non so nemmeno Ah, un Caragor Non hanno puntato Ma chi è? Ma dov'era? Sciacca l'assassino To, to Mi ha avvelenato, è l'amico Eh, fortino lui Però, lo sbunno Dieci colpi critici Voilà E uno Prendilo Allora, se non posso far renderlo con me Combatti l'ultimo sangue Eh, lo devo uccidere Adattamento È morto, dai È morto Speriamo ci dia qualcosa di davvero interessante Tutto ghiacciato, poverino Poverino Mi dispiace un po' Beh, se è sanzino Non possiamo quindi farlo Andato Non era niente di... Era degli oscuri Quindi si poteva fare bene Per il semplice fatto che Essendo degli oscuri Se lo reclutavamo Facevamo una missione Ma essendo un livello basso Io Io, oddio Sono a livelli bassi Perché sono al 60 Praticamente Vedi? Tribù fuori legge Di livello 55 Ok Tribù massacro Tribù terrore Ah, fuori legge Eh Interessante Quindi io mi serve un fuori legge Perché così poi sarà al 60 Tribù massacro A che livello, scusami? A livello 55 Tribù massacro Ma magari se ce ne è uno vicino È il tribù massacro Tribù massacro Perché no? Perché no? Potremmo dargli un occhio Sperando di riuscire a A fare qualcosina Sarebbe interessante Poterlo reclutare Per fare una Una missioncina Cioè Potremmo provarci Sapete? Ho 10 frecce su 12 Strano No, scusami un secondo Se io Vado qua Ho quanti fuori legge ho? Fuori legge Massacro Terrore Non so che qual è Fuori legge Ah, ho due fuori legge E un massacro Però Sono io Sono io Sono io Nulla ci pieta di provare Qua c'è anche un Tanto Dovemmo solo fare una missione Oggi qua 65 Non posso farlo Non posso farlo fuori Inferocito Boom Ok Non posso Piacerebbe ucciderlo Perché Ci da tantissimo Funziona Oh Boom Colpo d'ombra Madonna Che legne Che gli sto dando Ok Voilà Se io lo riduco Lo umilio Ok Riduci Di quanto deve essere Al 50 Devo andare 60 60 va bene Rush la macina Rush la macina Mi sta bene Così Il problema è che Che non so dov'è Adesso Il problema è che Non so dov'è Lui Condottiero Rush la macina Rush la macina Adesso so dov'è La macina è anche un bel nome Secondo me Ah è qua Io sono Qua Però io posso andarmi Tranquillamente Qua Vado là Lo devo Catturare Cioè umiliare Chiamatelo come volete Ah da qua Non mi interessa nulla Se lui si ricorda di me Quello è il problema Si ricorda fin troppo Eccolo lì Ok Rociuccio Vieni Vieni Gozo Sì 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 Ci ho già provato prima Ci ho già provato La dica Vieni qua What's up man Ah boom Easy E uno E due E due E due Zing 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 Stremato Lo ciucciamo Voglio fare la missione Servi lucente signore Ah Puoi andare Puoi ritirarti Allora adesso noi ritiriamo anche lui Puoi andare via zio Puoi andare via Inventario Potenzia E al 60 8 e 90 di attacco Mi sta bene C'è una roba rossa qua da prendere Scusatemi Non vorrei disturbare Grazie Arrivederci Buon lavoro Grazie Arrivederci Salve Se io Vado lassù Ci sono tanti 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 orchi qua È una grana Aspetta un secondo Allora Io ho Due Tre di queste E direi di fare Forge a gem Ok Tolgo questa Me ne infilo una Danni con quest'arma Faccio qua E metto questa Annelli capitano Tengono automaticamente due livelli Quando vengono reclutati E questo mi sta bene E questo mi sta bene Poi Io devo Scusami Scusami Cos'è questo Altario ha scoperto Il luogo Addirittuale di Nazgul Distrugge Per aiutare Che Nazgul Creano altri Prescelti Non c'era Questa missione Prima Ok Sto prendendo Delle legne Sto prendendo Inimmaginabili Allora A me serve Un Tribù fuori legge E qua E' un regalo E' un regalo Tribù fuori legge Ok Ora potrebbe Acquistiamo direttamente La No Ho sbagliato Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Senza difese così Come facciamo Siamo tanti Ma siamo senza difese Senza niente Ho sbagliato tutto Vabbè Ho sbagliato tutto Nivello 86 Ok Lo sbudellate Via Due colpi Solo Due Tutte Tutte Kaboom Via Tutte Neanche un capitano Per ora qua Vero? Molto strano Veramente Molto strano Uno di tre punti Non vedo capitani Più avanti ci saranno Guarda Che livello sono? 20 Vabbè Li distruggiamo Li abbiamo sciolti Abbiamo preso una gemma nuova Fai un po' vedere Ah una nuova gemma così Meno 20 danni subiti dai seguaci Ehm Vabbè 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 Cos'è qua? Meno 25 danni subiti dai seguaci Vabbè Non è molto interessante Però va bene così Potrei ucciderli tutti io questi Ah l'hai nottato Boom Boom Fammelo prendere Lo reclutiamo Lo recluto Li recluto tutti Vai 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 25 salita Vai via Suga Sei scarso Come la fame Kaboom Sciolti anche lui Dove pensi di andare? No Anche tu Talion però Talion È fuggito Pensa te È fuggito Affrontiamo il reggente Questo qua deve essere abbastanza facilino Secondo me Ho visto i comandanti Sono dei livelli 20 60 Lì c'è il mio amico Che mi fa molto piacere In ritirata abbiamo il nostro Ah però c'è uno dei nostri Lui è al Non è a livello alto Secondo me Qui puoi ammirare il frutto 24 Scarso Guerrieri potenziati dalla mia alchimia Lo facciamo fuori E da qui che morirai C'è anche un 60 mio Qua facciamo veramente Veramente in fretta Ah È un Calagorn È lui però Ecco questa È una grana Questa potrebbe essere Una granella Tradimento Ragazzi Me l'ha già ammazzato Subito l'ha ammazzato Finito L'ha ammazzato subito Subito Durato un minuto Un minuto è durato L'amichetto Un minuto Ma neanche Beh E adesso c'è l'ultimo Vero Adesso Stiamo per entrare Nella storia A pieno diritto Non ci rimane Che una sola conquista È Mordor Sarà nostro Kabum Cioè Cioè easy Senza nessun tipo di paura Abbiamo preso anche questa zona qua Che è abbastanza ampia Ma non tantissimo Rimane solo Minas Itil Ci metto un nuovo reggente Gli metto qualcuno di grosso Tipo lui Di solito Tendo a Invulnerabili pure le frecce Quindi va già bene Reggente Abbiamo un bel esercitino qua Sì 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 Un bel esercitino Signori ci vediamo allora Al prossimo appuntamento Cicaciao 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 Cicaciao